vogliamo ammazzarti perché sei nero è la minaccia che i trapper jordan e traffic hanno gridato all'operaio nigeriano di 41 anni che hanno derubato alla stazione di carnate monza il 10 agosto scorso intorno alle 16.30 l'uomo era appena sceso dal treno dopo una giornata di lavoro e stava tornando a casa stava percorrendo il sottopasso pedonale spingendo la propria bicicletta quando all'improvviso dalle scale di accesso i binari ha visto arrivare due ragazzi a torso nudo i trapper hanno cominciato a inveire contro di lui poi hanno estratto dei coltelli e lo hanno minacciato di morte l'uomo spaventato temendo per la propria incolumità ha abbandonato la bici e dello zaino ed è fuggito in direzione di via roma i due ragazzi lo hanno seguito brandendo i loro coltelli gridandogli di fermarsi continuavano a minacciarlo di morte per il colore della sua pelle una volta raggiunta via libertà il 41 n si è voltato e ha visto che i giovani invece di seguirlo erano tornati indietro scendendo nuovamente nel sottopasso della stazione dove hanno preso bici e zaino dell'operaio